E' un territorio molto particolare, abbiamo condiviso un'analisi che parte da un'analisi dei fenomeni illeciti, criminali che si svolgono, che presentano caratteristiche e per tipologia e per tipologia di persone che lo commettono, un po' differente, un po' specifico rispetto ad altre parti del territorio nazionale. E' stata una richiesta convergente di un segno tangibile di interesse dal punto di vista del rafforzamento degli organici e delle forze di polizia. Già da quest'anno c'è un'inversione di tendenza, in questa provincia ho calcolato adesso diverse decine, sono 50-60 le unità di personale di polizia in più tra le tre forze di polizia che arriveranno. Sin da subito metteremo a disposizione delle risorse da Roma per affrontare sin da subito il problema. La Puglia, io questo tema lo conosco bene, sbarchi spontanei pochi o nessuno. Noi lavoriamo sempre perché questo fenomeno vada progressivamente a ridursi, qualche segnale positivo ce l'abbiamo. Riteniamo sempre che l'iniziativa principale sia quella di limitare le partenze. Gli arrivi di persone che poi finiscono in un cono d'ombra di una vita fatta di emarginazione, di assenza di possibilità di accedere a delle possibilità di una vita almeno per come la immaginavano e la sognavano, aumentano il rischio di radicalizzazione.